I pesaresi guardano le persone, non i simboli, guardano la competenza, la concretezza ed è questa la cosa più bella. Voglio ringraziare innanzitutto loro, quindi davvero un risultato storico, stravincere col vento a favore è bello, ma stravincere col vento contro ovviamente dal doppio della soddisfazione credo che politicamente sia ancora più rilevante. Non ha nascosto la propria commozione Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, che ha ormai in tasca la riconferma al primo turno. Chiusi i 103 seggi scrutinati ha ottenuto il 58% dei consensi. A commuovere Ricci lo scarto di circa 30 punti tra il voto delle europee, che ha visto la Lega primo partito in città, e quello delle amministrative, dove invece il primo cittadino uscente, presidente di autonomie locali italiane e responsabile, enti locali del PD, sostenuto da una decina di liste, ha prevalso rispetto agli altri candidati. Molti anche i voti disgiunti, espressi a favore di Ricci da chi invece ha votato per altre liste. È stata per il sindaco Ricci una vittoria molto facile, perché dall'altra parte non ha trovato veramente una campagna elettorale potente, fatta al 100% e fatta per vincere, così, messa su. Quindi secondo lei nessun candidato all'altezza da portarlo al balottaggio? Assolutamente, non che non sono all'altezza, non si sono ben organizzati per far fronte a un Ricci che gode di 70 anni di favoritismi, l'altra parte, la destra pesarese, purtroppo non ha saputo stare compatta, unita e fare il bene della destra, ma hanno fatto il bene degli individui e questo è il risultato. Deve fare qualcosa per i giorni. Ad esempio cosa? Ad esempio creare più posti di lavoro per i giorni. Qui non danno la città ai cittadini e il partito comanda e io non sono d'accordo. Secondo lei cosa dovrebbero fare? Dovrebbero andare a chiedere ai cittadini cosa vogliono, dovrebbero andare a bussare le porte la sera all'ora di cena e qui io vedo che non fanno così e mi dispiace perché l'Italia è una bella nazione, noi italiani siamo molto intelligenti, ma il problema forse non è neanche dei giovani, il problema è del partito perché i partiti controllano tutti questi politici. Se ho avuto quei voti si vede che li meritavano, si vede che li meritavano i voti, altrimenti non li avrebbero votato. Si vede che tra l'altro ho fatto anche qualcosa di buono. Non ha nascosto invece la propria delusione l'avversario sconfitto Nicola Baiocchi di Fratelli d'Italia, sostenuto dal centro-destra, arrivato a sfiorare il 30%. Purtroppo questa è una città che nuovamente dimostra che non vuole cambiare, dove evidentemente va tutto bene così. Le dinamiche politiche molte volte sono differenti, bisogna saper accettare la sconfitta e rispettare il voto degli elettori e quindi assolutamente siamo tranquilli, sappiamo di aver fatto il massimo che potevamo fare, abbiamo veramente fatto una campagna elettorale secondo me perfetta. Francesca Frenquellucci del Movimento 5 Stelle ha registrato il 9,31%, mentre Nicola Giannelli della lista fuoricentro ha ottenuto l'1,90%. Claudio Nigosanti, comunisti per Pesaro e Francesco Scavolini, servire Pesaro insieme, si fermano rispettivamente allo 0,95% e 0,61% di voti.